Linda Noskevich, messaggio da Dio Padre, il cielo avvolgerà il mondo di fuoco. Guardate al cielo, figli miei, guardate al cielo per gloria e passione. Lo Spirito Santo vi porterà via dall'iniquità, quindi vi dico di seguire la voce interiore nei vostri cuori, perché è il vostro Dio che vi chiama. Amati figli, non dovete aspettare molto, io sono qui, in voi e intorno a voi sempre. Io sono la vostra eternità e sono sempre il Signore Dio che cerca nei miei figli il calore e la tenerezza dell'amore. Viziatemi, amati figli, con le vostre attenzioni e il vostro amore. Sono preoccupato per i miei amati figli, il cui amore per il Signore Dio e Padre e Cristo e colui che si estende da noi diventa ottuso. Il mio cuore è allo sbando perché sono preoccupato per voi e voglio il vostro consenso e il vostro amore. Oh, amati figli, non dovete aspettare. Non potete essere frivoli con il vostro tempo. Le campane suoneranno e i fiumi si prosciugheranno e il cielo avvolgerà il mondo di fuoco. Il caos dell'uomo ridurrà l'onore e l'Eucaristia sarà rara o difficile da trovare. Perciò dico, non siate frivoli nel vostro amore per me e nel vostro tempo. Tanti non sono pronti a stare davanti al figlio misericordioso e giusto. Oh figli prediletti, io sono un padre amorevole, un padre misericordioso e sono anche giusto. Venite a me e accettate il grande dono della mia misericordia per non affrontare la giustizia da soli, incustoditi e deboli. Perché i vostri cuori e le vostre anime sono cose fragili e date per scontato o per disinteresse la loro salute e il loro benessere. Prestate attenzione al danno che l'oscurità fa alla vostra stessa anima. Ricordate sempre che il mio amato figlio, Cristo Gesù, lui sta riportando in vita attraverso il suo più grande sacrificio di amore. Amati figli, vi do la mia pace in questo giorno e in tutti i giorni. Grazie a tutti.